Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Emma Marrone cambia completamente pagina dopo la dolorosa rottura con Stefano De Martino e decide di crogiolarsi proprio fra le braccia di un altro uomo Ecco di chi stiamo parlando.Emma Marrone fidanzata.Come ben saprete la storia avuta con il famoso ballerino Stefano ha riscosso una successo inimmaginabile fra il pubblico italiano In pochi ricordano bene l'inizio della loro relazione, è doveroso quindi fare chiarezza sugli eventi realmente accaduti fra o due Per chi non lo sapesse i due artisti si sono conosciuti moltissimi anni fa in uno dei programmi più amati dai telespettatori Quest'ultimo va tuttora in onda ottenendo un numero di ascolti davvero inimmaginabile e neanche lontanamente paragonabile alle cifre di svariati format Stiamo parlando ovviamente dal talent condotto dalla famigerata presentatrice Maria De Filippi, ovvero Amici All'epoca erano dei semplici ragazzi che tentavano in ogni modo di raggiungere i propri obiettivi diventando così dei volti famosi nel mondo dello spettacolo, della danza e della musica Emma Marrone e Stefano.I due si avvicinarono molto vina a diventare discretamente intimi ma, prima ancora che il programma potesse terminare successe l'impensabile Da allora la cantante non riuscì a superare appieno la rottura ed il tradimento e i dissapori non cessarono mai Nonostante la buona fede della donna, quest'ultima non riuscì ad intraprendere una nuova relazione amorosa, fino al suo arrivo Emma Marrone, dopo Stefano De Martino, butta fra le sue braccia, più bello, più famoso e più dicco del suo ex Come vi abbiamo già detto successivamente la vita sentimentale della donna rimase in bilico Il tradimento subito sotto gli occhi di tutti resero il tutto molto più difficile, fino a quando la cantante non incontrò Nicolai Danielsen Dovete sapere che lui è un ragazzo norvegese, di mestiere fa il modello e vinse perfino Mister Norvegia nel 2011 Emma e Nicolai.I due furono avvistati insieme nel 2019, le foto insieme al modello, scattate direttamente da chi, li immortalarono molto vicini Pare che i due siano stati insieme all'incirca un anno anche se entrambi sono sempre stati molto discreti a riguardo Di fatto, attualmente non vi sono molti scatti che li ritraggono insieme pubblicati sui loro rispettivi profili social A quanto pare successivamente, per svariati motivi, si allontanarono ma pare che fra i due non vi sia rimasto alcun trancore Attualmente pare che al cantante sia single, come ben saprete però non ama condividere determinate cose sulle varie piattaforme perché spera di mantenere livelli di privacy elevati Sono molti i gossip che la vedono come protagonista però.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video